Perché nasce Baldanza? Nasce, nasce, come nascono spesso le cose, per caso, per passione, per incontri belli, incontri interessanti. In questo modo è nata da interessi di qualcuno per la musica antica e la danza antica, tra l'altro nata e sviluppatasi a Ferrara, alla cortestense. E poi da dialoghi interni di come, questo era l'obiettivo dei primi volontari, e io ero una di queste insieme a tanti altri, l'obiettivo era di avvicinarsi il più possibile alle persone con un linguaggio comprensibile, cioè far appassionare la città di Ferrara e di più anche, la nostra intenzione era, della musica antica e della danza antica. Grazie a tutti.